Siamo qui a Rifugio Gimmi, nei pressi del Passo Gardena, giornata sulla neve per Kers. Io oggi preparerò un piatto con lo spaghettone I capelli del pastificio Felicetti, che condirò con una leggera aglio olio peperoncino, delle briciole di pane di segale e finisco con delle uova di trota che ho fatto marinare nel centrifugato di prezzemolo. Quindi una versione così, un po' di montagna, di una classica aglio olio peperoncino.